allora qua ora ho collegato quello la autocostruito quell'altro avevo amplificazione 1000 quello ginese qua ho dovuto abbassare a 100 e praticamente ho le stesse prestazioni colpettino a terra l'unica differenza che qua ho messo amplificazione 100 la invece era 1000 quindi non lo so ora mi sembra più prestante questo qua praticamente rispetto a quello ginese però anche in questo caso c'ho questa oscillazione continua che non so cosa sia